Il Vangelo di oggi ci racconta la parabola del fico sterile, quel fico che non porta frutti e per questo motivo il padrone lo vuole tagliare. Ma a queste intenzioni ecco che il contadino dice padrone lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e messo il concime. Ecco che questo Vangelo ci invita ad avere pazienza, pazienza nei confronti di chi sbaglia anche nel nostro prossimo. Perché il rischio nostro è che quando subiamo un torto o riteniamo di averlo subito tendiamo a non perdonare. Invece dobbiamo guardare a Dio, a Dio che è paziente nei confronti dei peccatori, di coloro che non hanno portato ancora buoni frutti, di coloro che non sono ancora delle brave persone. Eppure Dio in queste persone, con queste persone ha pazienza e ce ne rendiamo conto della pazienza di Dio se leggiamo la Bibbia. Ci rendiamo conto che Dio ha avuto pazienza con il popolo di Israele. Questo popolo si è allontanato da Lui, ha peccato non una volta ma più volte in modo ripetuto. Eppure Dio, seppur a fatica, lo ha sempre perdonato. Ecco che Dio nei confronti di questo popolo e anche nei nostri confronti tende a rimandare il tempo del giudizio. Questo rimandare non serve ad impedire il cambiamento ma proprio a renderlo possibile. E noi, nel cambiare, dobbiamo avere alcune attenzioni. La prima, non rimandare sempre, dicendo, ah sì, tanto Dio ci perdona sempre. E la seconda, a non voler partire, dicendo, ah beh, l'abbiamo fatta grossa. Dio questa non ce la può perdonare. Dio, invece, è colui che si prende cura di noi in attesa della nostra conversione. E la prima di lettura di oggi ce lo racconta bene. Ci racconta di come Dio ha visto la schiavitù del suo popolo. Ne è rimasto impressionato e per questo motivo è intervenuto. Insomma, Dio, di fronte alla sofferenza altrui, non rimane indifferente. E per questo motivo ha iniziato il cammino con il popolo di Israele, nel deserto, verso la terra promessa. E lì penso che ci siano tanti motivi di difficoltà, motivi che ci spingerebbero a fermarci. O meglio, avrebbero spinto Dio a fermarsi. Eppure, Dio non lo ha fatto. Dio è stato fedele al suo popolo ed è stato fedele anche al suo nome. Yahweh significa io ci sono, io c'ero, io ci sono e io ci sarò. Dio per il suo popolo c'è sempre e c'è sempre stato. E nel suo popolo ci siamo anche noi. Perché la Chiesa, cioè l'insieme di noi cristiani, è il popolo di Dio di cui noi facciamo parte. E abbiamo anche noi un cammino con Dio. Questo cammino è un cammino verso la terra promessa. Per noi la terra promessa è il paradiso. E per poter sostenere la fatica di questo viaggio abbiamo un grande nutrimento. Che è il pane disceso dal cielo. Che per noi non è la manna, ma è l'Eucaristia. Quel pane che Gesù ci ha dato per ricordarci che Lui è presente in mezzo a noi.